Amico Matteo Romano, a Regatoli conosco da più anni, abbiamo fatto un passo da gigante, anche voi come organizzatori, l'anno scorso qua abbiamo fatto un eventino, quest'anno siete molto migliorati, anche il Comune vuole fare di più e stiamo parlando proprio in questi giorni per portare la pre-finale nazionale, la semifinale, come è meglio chiamarla, magari la Proloco, penso ottobre, novembre, adesso Matteo ci vedrà la data, se beh ecco è una cosa perché potremmo portare questa manifestazione a Borcosese a testimonianza del fatto che questa amministrazione vuole sempre portare più eventi e coinvolgere di più la cittadinanza a rendere tutti patteschi, quindi speriamo di riuscire a trovare l'accordo e portare la manifestazione nazionale qui a Borcosese per noi non noi, grazie. Grazie Paolo Tiramani. E volevo anche un saluto da Maria Elena Caldi. Grazie, un applauso. Grazie, buonasera a tutti, sono molto contenta di vedervi così numerosi come ha già detto il collega Paolo Tiramani e amico, il nostro compito è di fare bene e di organizzare degli eventi anche qui al Parcomani, è diventato un piccolo gioiellino pulito e curato, scusate, anche in collaborazione appunto con Paolo e gli altri assessori della Giunta, Costantino che è qui con noi e Marco Antoniotti, abbiamo appena installato un piccolo canestro, quindi dare la possibilità anche ai giovani di fare sport, ma anche eventi culturali e di moda come questi, quindi siamo ben felici di avervi ospitato e grazie per averci di nuovo chiamati, come diceva ad ottobre ospiteremo la Proloco la prefinale e quindi accorrete numerosi che qui a Borgosini si sta bene. Grazie, grazie. Ci siamo quasi con le procedure di conteggio.